Ciao a tutti ragazzi, bentornati al mio canale oggi andiamo a fare un video molto molto interessante sicuramente per la maggior parte di voi ne ho fatto uno in passato, credo un anno e mezzo fa, un anno fa più o meno simile andremo insieme qua l'aib a caricare e soprattutto andremo a vedere come si caricano migliaia di prodotti in una volta su ebay quindi se fai dropshipping sai che è importante caricare tanti prodotti una volta su ebay in maniera automatica per risparmiare tempo in questo video ti farò vedere come in circa 10 minuti possiamo andare a caricare non so diciamo 3-5-10 mila prodotti su ebay ti mostrerò anche il procedimento che faccio per selezionare che tipo di prodotti andare a caricare ti farò vedere le selezioni che faccio dal fornitore nello specifico andremo a utilizzare amazon come fornitore e ti farò vedere come li carico su software che sincronizza automaticamente l'account ebay con il fornitore quindi ti farò vedere praticamente anche l'estensione che utilizzo per prendere tutti i prodotti una volta ad esempio se hai utilizzato auto ds o software similari sai benissimo che il problema nell'estensione che ti danno questi software è che devi praticamente manualmente raccogliere un sacco di prodotti quindi 100 alla volta e se devi andare a raccogliere 10.000 prodotti ti serviranno un paio d'ore ed è molto fastidioso ma io ti farò vedere in questo video un'alternativa su come lo puoi fare in automatico con altre estensioni in pochi minuti puoi raccogliere letteralmente migliaia e migliaia di prodotti quindi non perdiamo tempo ricordati iscriverti al canale mettere like al video così mi supporti alla crescita del canale ora andiamo a vedere nel mio schermo esattamente come si fa e quale procedimento io utilizzo di solito mi diminuisco la dimensione mi metto un po' di lato e andiamo a vedere ho preparato qua un account test per i video andremo a utilizzare in questo caso auto ds come software per chi non lo sapesse auto ds è il software di automazione che utilizzo per sincronizzare county bay con fornitori come amazon o come walmart o come area spesso permette di sincronizzare i prezzi e sincronizzare e monitorare lo stop degli oggetti quindi vorrei chiarire che ci sono due casistiche che se tu stai iniziando ora il procedimento sarà leggermente diverso ma se già aventi il procedimento è più o meno questo perché dico questo? allora se noi andiamo nella mia questa dashboard noi vediamo che ho questo pannello su auto ds che mi permette di vedere le categorie più vendute in un determinato arco di tempo in questo caso io posso vedere che categorie mi stanno andando molto bene sono pet suppliers, toys, beauty, kitchen quindi prodotti per animali, giocatto di prodotti di bellezza e prodotti da cucina io così so quali prodotti sto vendendo meglio e andrò a basare la mia scelta di prodotti da caricare in base anche a queste informazioni se tu invece stai iniziando a vendere da ora queste informazioni non ce le avrai ma puoi utilizzare un altro procedimento ossia segnarti manualmente la tipologia di oggetti che vendono di più man mano così da poterti fare un'idea su cosa funziona quindi unoltre che hai le tue annotazioni ti sei annotato le categorie e tipologie di oggetti che vendono di più la cosa da fare è andare a scegliere i prodotti e andare a esportarli innanzitutto ci serve l'estensione adeguata andremo a utilizzare questa estensione qui Async Ferture che è un'estensione che permette di raccogliere gli Async in modo automatico da Amazon in specifiche pagine gli Async sono i prodotti identificativi dei prodotti presenti nel catalogo Amazon e sono anche gli ID identificativi che ci servono per caricarli nel software di automazione qualsiasi esso sia quindi andrò ad installare sul mio browser Async Ferture ma siccome io voglio estrarre su più categorie è in modo automatico, è in modo parallelo così da perdere il meno tempo possibile perché siamo qua per risparmiare tempo ricordiamoci ragazzi dell'automazione ci serve risparmiare tempo il problema è che questa applicazione questa estensione ti permette di estrarre da una pagina alla volta non da una pagina, da una categoria alla volta diciamo che quando finisci il processo stop il processo di quella precedente non potrai iniziare quella dopo quindi visto che io so questo vado ad aprire altri profili Google ok? come vedete quando ero già preparati e su ogni profilo Google andrò ad installare l'estensione che è questa qui quindi in questo momento io ho tre profili Google cosa faccio? inizio con la prima categoria io andrò ad esportare prodotti dalla cucina prodotti beauty e prodotti diciamo giocattoli va bene? iniziamo con i prodotti dalla cucina andrò sul supplier sulla mia pagina del supplier che voglio in questo caso mettiamo Amazon USA ricordati di cliccare su questo a sinistra dove c'è Deliver To e mettere il postcode del posto dove vuoi questo perché se tu vuoi per esempio estere prodotti da Amazon America ma tu hai un postcode qua italiano che Amazon si prende automaticamente dal tuo IP e dal tuo computer non ti mostrerà i prodotti prime perché le spedizioni te le mostrerà verso l'Italia te l'interesse invece verso l'America o verso comunque la Germania o qualsiasi sito tu stia utilizzando quindi ricordati di cambiare il postcode qua per esempio qua c'è quello di New York 10-115 applica fino a quando qua ti spunta Deliver To New York o comunque alla nazione in cui stai vendendo ora abbiamo detto che iniziamo con i prodotti della cucina una volta che sono qui quello che faccio è cliccare sulla selezione di categoria Amazon cercare prodotti della cucina in questo caso home and kitchen qua non scrivo niente ma faccio direttamente cerca una volta selezionato in questo modo andrò sulla macro categoria di Amazon ora come vedi siamo su questa pagina io da qua non posso estrarre IASIN per estrarre IASIN devo essere sul catalogo vero e proprio con la lista di tutti gli oggetti quindi quello che posso fare è selezionare una sottocategoria anche perché qua ci sono categorie che a noi non gli interessa a noi ci interessa chi c'è ok quindi cliccando qui siamo su questa pagina ancora non va bene quindi devo selezionare un'altra sottocategoria andrò a fare storage per esempio e qua siamo in una pagina che già ci può interessare come vedete abbiamo la lista degli oggetti da qua possiamo già estrarre però ancora non va bene perché come vedete ci sono i top rate under 25 most wished for e non possiamo estrarre da qua noi possiamo estrarre ragazzi solo dalle pagine dove qua ci sono i numeri 1, 2, pagine, 3 ok cioè o meglio possiamo estrarre da qua ma ci estrarrebbe solo questa pagina quindi come fare il trucco è cliccare su prime qua o free shipping che in caso dobbiamo selezionare se vogliamo solo prodotti prime se invece non vuoi prodotti prime ti basta selezionare qualsiasi tipo di filtro ad esempio un prezzo per esempio facciamo under 25 poi lo puoi anche rimuovere riclicchi nuovo in questo caso ok allora facciamo un minimo lo mettiamo un minimo 10 ok come vedi la pagina è cambiata guarda vedi che non ci sono più under 25 non ci sono più i top rated e non c'è più niente abbiamo qua sotto i numeri in questa pagina possiamo estrarre quindi il nostro obiettivo è arrivare in una pagina come questa su Amazon per fare l'estrazione di massa e selezionare i filtri che ci interessano per esempio in questo caso mettiamo che io voglio solo prodotti prime quindi farò free shipping non mi interessano filtri di prezzo mettiamo facciamo così poi se tu vuoi puoi anche navigare in altre sottocategorie ok se per esempio tu hai già estratto da qua pochi giorni fa puoi andare in una sottocategoria e continuare a estrarre prodotti sempre più profondi o puoi anche andare sopra la categoria ok per esempio noi prima avevamo detto che dovevamo per forza andare in una sottocategoria di storage e organization se ti ricordi quindi siamo andati in una sottocategoria ma una volta che hai la pagina così puoi cliccare in un kitchen and dining e andrai di nuovo nella categoria macro con tutti i prodotti stessa cosa su home and kitchen come vedi prima eravamo costretti a selezionare kitchen and dining per far scomparire quelle quelle pagine di catalogo che non ci interessano invece una volta che sono su questo tipo di pagina posso navigare da questo menu sulle sottocategorie macro e categorie e estrarre da dove voglio se per esempio io voglio tutti i prodotti da home in kitchen posso fare da qua se io invece voglio solo non so bath da bagno cliccherò qui mettiamo che noi vogliamo la categoria principale perché vogliamo tutti i tipi di prodotti quindi ho selezionato il mio filtro ho selezionato tutto quello che mi interessa sapere ora mi inizia mi interessa cominciare a estrarre quindi cliccherò su async furniture cliccherò su click here to furniture async e si aprirà questa pagina come vedi in questa pagina abbiamo diverse informazioni qua i async i price i prezzi i seller che non viene mostrato a noi non ci interessa ora ti faccio notare guarda in basso a destra dove sto selezionando c'è total async questi sono tutti gli async che sta estraendo in questa pagina in modo automatico guarda come va veloce 251 282 313 e così via ma lo sta facendo in automatico quindi tu non devi toccare più niente ti farò vedere dopo come fare a scaricarli intanto facciamolo andare mentre che qua sta già estraendo home and kitchen a noi ci interessano anche altre categorie quindi ci spostiamo nell'altro profilo e facciamo un nuovo procedimento per un'altra categoria in questo modo che in modo automatico estrae da più categorie guarda qua c'è vedi che qua c'è Italy come ti dicevo prima a noi ci interessa l'America quindi far cambierò ok abbiamo detto che estraiamo anche da toys quindi clicco qua toys faccio ricerca ora vi faccio vedere un po' più veloce tutto quello che ho spiegato cerco macro categorie da cui non posso estrare quindi vado su filtri faccio crime da qua posso estrare quindi a me mi interessa estrare direttamente dalla macro categoria o non so se vuoi solo elettronica per bambini mettiamo vogliamo solo elettronica per bambini clicco qua minimo 10 dollari massimo 200 dollari facciamo qualche filtro così capisci ho 3000 prodotti qua un po' pochini aumento i filtri ok non ce n'è di più va bene così clicco as in fetcher e faccio partire sta partendo 33 66 e così via mi sposto di nuovo nell'arco e ripeto la procedura per un'ultima categoria che mi interessa come vedi una volta che sei precedimento ci stai davvero 5 secondi abbiamo detto beauty mi sposto su beauty un personal search macro categorie quindi filtro mettiamo qua voglio il minimo 15 dollari massimo nessun prezzo così per variare free shipping e ho 60.000 prodotti ok quindi aziono as in fetcher ed è partito ora ragazzi ho le mie tre categorie che avevo scelto quello che devo fare è semplicemente aspettare che estraggono abbastanza prodotti come vedi qua per esempio è già 1500 mettiamo che vogliamo caricare 8000 prodotti quindi sceglierò come in base alle categorie su come suddividerli per esempio mettiamo che al fine di non fare questo video troppo lungo caricherò 3500 prodotti da questa categoria altri 3000 da qua e 2000 da qua ok poi in base alla categoria la velocità del software varia infatti come vedo in qua sembra andare più veloce ma comunque questo è il procedimento ora appena finiranno di estrarre abbastanza asin ti farò vedere come scaricare e unire tutti questi asin e importarli tutti insieme su AutoDS così in questo modo in meno di cinque minuti avremmo caricato circa 10.000 prodotti sul nostro account ebay ovviamente qua abbiamo perso un po' più tempo per le spiegazioni ma se lo fai solo sono tre click e in cinque minuti hai finito questo è molto utile da sapere soprattutto se gestisci molti negozi o negozi grossi in cui vuoi espanderti e utilizzare molti prodotti di una volta e ovviamente non vuoi spendere soldi magari in VA perché magari se gestisci molti prodotti avere una VA che ti estrae 10.000 prodotti manualmente cliccando perché vi faccio vedere ragazzi non so se vi è chiaro perché ho vi faccio vedere il procedimento con l'estensione ufficiale come sarebbe mettiamo una pagina qualsiasi ok non ho l'estensione la scarico a volo per farvi vedere così capite la differenza perché è importante la differenza per cogliere l'utilità di quello che vi sto dicendo ho già l'estensione ma non spinta va bene ragazzi in pratica qua quando avete l'estensione ufficiale vi fate estrai vi estrarre solo questa pagina e poi dovete andare alla seconda per estrarre la seconda e quindi estrarete 50 o 60 asim alla volta per arrivare a 10.000 dovete estrarre decine di pagine o centinaia di pagine in base a quanti prodotti volete per esempio ieri ho estratto 60.000 prodotti in un'ora senza fare niente ho semplicemente lasciati il software asim fercial girare e ha fatto tutto da sé ok ragazzi ci siamo abbiamo 3000 la 2000 qua e 2000 qua quindi possiamo iniziare a estrarre allora mi rimetto piccolino come si estrae allora iniziamo da qua no scusate iniziamo da qua abbiamo 3000 asim qua ci sono due voci copy data o export to csv ok poi se puoi cliccare qua se per esempio stai usando solo una categoria e non multiple come sto facendo io puoi cliccare magari qui e ti scarica il csv lo apri e come vedi elimini la prima rica hai tutti gli asim ok però siccome noi ci vogliamo facilitare la vita quello che puoi fare è prepararti un file google sheet ok così e poi lo puoi fare invece di cliccare lì è fare copy data poi fai incolla e come vedi ti hai incollato tutti gli asim queste a noi non gli interessano quindi le cancello faccio la seconda la stessa cosa che la seconda pagina cioè copy data vado alla fine faccio incolla e faccio di nuovo la stessa cosa nell'altra questa la chiudo non mi interessa più faccio copy data anche qua quindi incollo anche questa cancello le superflue che sono queste qua chiudo questa ok come vedete ho estratto in due minuti 9000 asim 9213 asim sono tantissimi ok se ne hai bisogno di 100.000 in mezz'ora riesci a prenderli quindi seleziono tutta la colonna ora che ora mi interessa importarli sul mio account ebay seleziono tutta la colonna copio vado sul mio account faccio add products su auto ds se non sai ragazzi se non sapete come utilizzare utilizzare auto ds o faccio un corso su drop shipping ebay con 11 ore video di spiegazioni potete trovarlo su drop shipping chilondizero.com è un'ottima opportunità se ancora non stai facendo drop shipping su ebay e vuoi iniziare questo tipo di business quindi faccio aggiungere il prodotto faccio prodotti multipli avrò questa schermata incollo tutti gli asim come vedi qua ho tutti gli asim farò edit prima di caricare i prodotti in questo modo sono su questa pagina perché quello che mi interessa è questa pagina supplier settings perché a me mi interessa selezionare aggiungi categorie e tag cosa è questa opzione praticamente quando carichi i prodotti auto ds prenderà le categorie le sottocategorie dei prodotti e le aggiungerà come tag questo è importante da selezionare per avere questa dashboard così come ce l'ho io quindi selezioni quell'opzione e fai import aspetterai che auto ds importerà i prodotti in qualche minuto mezz'oretto una letta in base al numero di prodotti che hai e tutti i prodotti saranno pubblicati sul tuo account ebay come vedi togliendo le mie spiegazioni e tutto se avessimo fatto tutto in modo veloce in 3 minuti 3-5 minuti avrei caricato 10.000 prodotti da amazon ebay in modo veramente automatico ragazzi spero che questo video vi sia stato utile che l'abbiate trovato importante grazie a tutti voi che mi contattate mi contattate spesso su instagram o via email trovate i miei contatti in descrizione se vi interessa ricordati di iscriverti al canale ti aspetto al prossimo video ciao ciao